Ragazzi siamo tornati a legionarius zone, scusate il balbetto, però non si fa tre volte a settimana, due volte a settimana, lo sapete Lorenzo, però questa volta stavo parlando con Samuele, voleva vedere una tecnica di nullo kick con la gamba sinistra, logicamente che la destra mi fa malissimo, e mi ho detto guarda fammelo vedere, non c'è problema, quindi sarà legionarius zone, faccio vedere la parte in piedi, quindi nullo kick, dove il mio amico carissimo Samuele, gli ho detto farò vedere la tecnica, solamente la tecnica dello kick, quindi niente, legionarius zone, puntata quinta, io e Samuele Sanna. Allora, per i lo kick, a per i lo kick, vieni da questa parte, non so se, ricordate sempre che quando calciate, no, li metti da questa parte, se no loro non vedono il calcio, però rimani qui, ricordate quando calciate, logicamente col sinistro perché il destro mi fa male, di mettere il braccio avanti, quindi quando voi calciate, braccio avanti, sempre, attenzione, quindi io al mio amico Samuele ho sempre detto che lui deve stare intressato, ah, lo calcio, fortissimo, sul cuscino, ma Samuele dai, metti sto cazzo da cosa, l'ultima volta, oh l'ho preso, l'ultima volta, ragazzi, non facciamo queste cose, non facciamo queste cose, ok, dobbiamo per i ragazzi, per i ragazzi, non fa male, non fa male, non fa male, ti prego, fanno per i fans del legionario, dai, andiamo, ragazzi, pianissimo, ragazzi, ricordate, ricordate, no, aspetta, ricordate l'angolo, l'angolo del schede, l'angolo del schede, no, le mani teso con la coscia, piede laterale, lo faccio la fermo, lo faccio la fermo, dai, lo faccio la fermo, dai, lo faccio la fermo, piede laterale, dai, oh Samuele, dai, fai l'oro, non è tempo, 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 volendo r account, non è tempo, vado a cap рубare, l'arciu, guardate, adesso, ho fatto le otto te i ragazzi, DANCE, Grazie a tutti